Ciao a tutti, oggi prepareremo il burro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono panna fresca e acqua fredda. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla. Versiamo la panna fresca. Chiudiamo con il coperchio ed il misurino ed azioniamo il bimbi per 4 minuti a velocità 4. Togliamo la farfalla. Andiamo adesso a togliere il siero. Posizioniamo il cestello. Teniamolo fermo con la spatola e sgoccioliamolo. Adesso rimuoviamo il cestello. Lasciamo all'interno del boccale il burro. Non buttatelo questo siero perché può essere utilizzato come bevanda sostitutiva del latte. Aggiungiamo all'interno del boccale l'acqua, ben fredda mi raccomando. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimbi per un minuto. A velocità soft. A questo punto Versiamo il burro all'interno del cestello. Adesso scecchiamolo sotto l'acqua corrente fredda. Adesso mettiamolo in frigo per 40 minuti. Il burro è pronto. Tamponiamola con carta assorbente e diamo la forma di un panetto. Burro! Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.